Siete qua? Oggi vedremo insieme la maglia del Sao Paolo di casa per la stagione 22-23 nella versione FUN, quella dedicata ai tifosi. La maglia da calcio home dell'Aridas San Paolo 2022 ha un design elegante con la famosa fascia tricolore rossa, bianca e nera dei club sul davanti. Il design tricolore può essere visto anche sul collo a V. Le tre stripes adidas sulle spalle e il logo adidas sono nere. Oltre al colletto intricato, un altro dettaglio chiave della maglia è il classico tricolore sul davanti che presenta una grafica composta dalle forme di tutti i paesi sudamericani. Sia le maniche che il retro della maglia da calcio adidas San Paolo 2022-23 sono bianche. Bellissima! Nella mia classifica questa prende assolutamente 5 stelle. Devo dire che è stata una fantastica sorpresa. Non è una squadra conosciutissima, non da me, ma devo dire che vista sul sito era fantastica e indosso, lo è ancora di più. Fatta veramente molto bene, peraltro, ed è incredibile che si trovi al prezzo che vedete qui sopra. Vi ricordo, peraltro, che in descrizione trovate i riferimenti per acquistare la maglia e dei link per poter avere un coupon in omaggio e per aiutare il canale a avere altre maglie da recensire in futuro. Quindi per supportarci, per supportare il canale. Ora, spero che prima di lasciarci possiate regalarci un like e iscrivervi al canale. Anche per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan.